come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e di novità ce ne sono proprio tante a prima che mi dimentico ricordatevi che poi a fine video vi devo dare le classiche quelle che io chiamo informazioni di servizio sono informazioni che non c'entrano niente con gli aggiornamenti di cui parlo nei video però riguardano comunque il mio canale quindi rimanete collegati fino alla fine e ascoltate quello che vi devo dire anche dopo ma partiamo subitissimo con la prima informazione perché poi sapete che non voglio far diventare i video troppo lunghi anche se poi alla fine mi metto a parlare di questo e quell'altro ea fine diventano un po più lunghe del solito però alla fine cosa succede succede con può cerco di accontentare voi di non fare evitare i video troppo lunghi e un po cerco anche di accontentare youtube perché so che a youtube ci piacciono questi video un po chiacchiericci quindi metto d'accordo tutti quanti e allora partiamo subitissimo con la prima informazione di oggi parliamo un pochino di carta acquisti e la domanda è questa qua la prima domanda dell'argomento è questa la ricarica della carta acquisti del mese di gennaio risulta ancora in ritardo che facciamo ebbene allora vediamo di capire il motivo e cosa fare in questi casi intanto sappiamo che anche per quest'anno la carta acquisti è stata praticamente riconfermata e quindi diciamo da che da questo lato almeno da questo lato il governo c'è venuto incontro quindi per adesso non ci sono problemi per quanto riguarda le ricariche poi un piccolissimo aggiornamento ma soprattutto per i nuovi iscritti perché chi mi segue già da anni già lo sa però io lo dico per i nuovi sappiamo che la carta viene ricaricata ogni due mesi ogni due mesi con un importo di 80 euro a bimestre quindi sono 40 più 40 per tutte le persone e famiglie che hanno dei minori di tre anni di età e o e o persone con più di 65 anni di età quello che però ci dimentichiamo perché dico siamo ci dimentichiamo sempre di un piccolissimo fattore è e questo è che a gennaio succede una cosa un po diversa da tutti gli altri mesi in cui arrivano le ricariche e cos'è che succede succede che nel mese di gennaio bisogna rinnovare l'isè e dice vabbè lo sappiamo già questo vuol dire che i titolari della carta dovranno rinnovare il modello isè e questo vuol dire che nel mese di gennaio potrebbero esserci dei piccoli ritardi quindi tutti i titolari della carta acquisti dovranno presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica isè per continuare a ricevere la ricarica anche nel 2024 e attenzione che proprio mancanza di un isè aggiornato cosa succede che il pagamento della carta viene sospeso fino alla presentazione di un nuovo isè in corso di validità quindi l'altra domanda qui dobbiamo rispondere è proprio questa qua allora quando arriva sta benedetta ricarica o ricarica della carta acquisti di gennaio guardando un po al passato negli anni scorsi l'importo della ricarica di gennaio è quasi sempre quasi ve lo dico per l'esperienza perché già lo so perché già l'anno scorso succedeva questo è quasi sempre stato pagato solo a partire dal mese di febbraio ecco allora perché a questo punto vi consiglio vivamente di provvedere procedere e provvedere al rinnovo dell'isè entro il 31 di gennaio allora vabbè ok diceva beh siamo un po in ritardo va bene non è che succede nulla se lo rinnovate anche febbraio e non è che vengono lì e tagliano le mani c'era neanche succede chissà che cosa però io consiglio sempre di rinnovare a gennaio almeno così vi risolvete i problemi e non vi ritrovate poi a febbraio a dover far tutto di corsa perché il gennaio non pagato la ricarica io dico solo per questo e poi vorrei anche ricordarvi queste scadenze quindi prendete un foglio una carta e penna come dico sempre e segnatevi queste scadenze chi mi segue già le sa però i nuovi io le dico per aggiornarvi ecco diciamo così la rica intanto primo la ricarica della carta acquisti viene fatta di solito intorno al 10 15 del mese di pagamento non è che tutti i mesi nel mese di pagamento e i mesi di pagamento sono questi allora abbiamo il gennaio che come vi ho già detto può scalare a febbraio in attesa del rinnovo dell'isè marzo maggio luglio settembre e novembre bene cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione nelle scorse settimane la commissione di bilancio del senato ha dato l'ok alla mente all'emendamento del governo che riformula due modifiche presentate da pd e fi sul bonus psicologo e quindi viene aumentata di ben 5 milioni di euro la dotazione per il 2024 che quindi in pratica sono 50 euro per ogni seduta di psicoterapia psicoterapia che si era un po intorsigliata la lingua e quindi a questo punto sono raddoppiati i fondi già sappiamo che il bonus psicologo è una misura che serve a sostenere queste persone queste patologie parentesi io non sono medico quindi non so entrare in dettaglio delle patologie che adesso vi sto per elencare quindi non so bene come funziona per questo questo tipo di patologia problematica bisogna poi parlare con il proprio medico io quello che so è che il bonus serve per stato di ansia stress depressione che siano nella condizione di beneficiare di un percorso di psicoterapia psicoterapia ecco quindi queste per queste le problematiche specifiche bisogna rivolgersi al medico quelle che io vi ho detto sono le stesse informazioni che ha riportato l'inps perché perché serve per quello ecco poi nello specifico della patologia dovete rivolgervi a loro e comunque alla presentazione della domanda è necessario essere in possesso di questi requisiti allora abbiamo la residenza in italia e l'isè in corso di validità con un valore non superiore 50 mila euro ecco perché vi dico sempre come vi ho detto prima di rinnovare l'isè entro il 31 gennaio almeno a gennaio che risolvete tutto il problema e vivete in pace per tutto l'anno senza dover correre a destra sinistra per rinnovare l'isè parentesi ricordatevi che dal secondo isè si paga quindi cercate di farlo corretto il primo perché poi dal secondo dicono che si arriva quasi fino a 25 euro è per rinnovarlo quindi fatevi i vostri conti in tasca per non andare a buttare soldi inutilmente l'importo del bonus parlando del bonus psicologo è determinato in base al reddito del richiedente con questi importi che adesso vi dico abbiamo un massimo di 1500 euro per redditi con isè inferiori a 15 mila euro e come vi ho detto fino a 50 euro a seduta questo era il primo poi abbiamo mille euro per redditi con isè compresi tra 15 e 30 mila euro e anche qua fino a 50 euro a seduta e poi abbiamo 500 euro per redditi con isè superiore a 30 mila euro ma inferiore a 50 mila euro e anche qui fino a 50 euro a seduta per richiederlo è dunque necessario prima presentare ed elaborare l'isè aggiornato dopodiché bisognerà accedere tramite lo speed o la carta d'identità e anche qui come vi dico sempre abituatevi ad utilizzare la carta d'identità elettronica perché da come ho capito lo speed tra un po se ne andrà in pensione è stato solo una cosa una parentesi pseudo felice questo speed pseudo costava 20 euro farlo altro che felice comunque è stata solo una parentesi così momentanea lo speed quindi abituatevi a usare la carta d'identità prendete sta su speed carta d'identità andate nella sezione contributo psicoterapia del sito internet dell'inps e su quale poi andrà appunto indicata depositata la domanda vera e propria comunque per avere assistenza sul calcolo isè ecco è possibile fare riferimento comunque anche al contact center dell'inps e chiamando proprio i numeri di telefono del centralino telefonico cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione rispondo volevo rispondere un paio di domandini che ho ricevuto in questi giorni per quanto riguarda il nuovo assegno di inclusione voi sapete che quando mi scrivete nei commenti fate le domande qui sotto ai video io li leggo e poi cosa faccio ovviamente prendo le domande più interessanti e le riporto all'interno dei video anche perché se sono argomenti che possono interessare tantissime persone è inutile che io rispondo a uno sotto il suo commento faccio prima fare un video così tutti quanti vedono la risposta e quindi tutti quanti possono beneficiare della soluzione al problema ho preso questa domanda qua e che mi viene fatta e mi dicono per le domande presentate dal mese di febbraio e nei mesi successivi quando viene disposto il pagamento dell'assegno di inclusione cioè in pratica se io faccio la domanda a partire da febbraio quando mi arrivano i soldi ecco questo questo è allora per le domande presentate dal mese di febbraio dal mese di febbraio e quindi comunque anche per quanto riguarda poi i mesi successivi quindi questa cosa vale poi da febbraio in avanti il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale i successivi pagamenti i successivi pagamenti verranno poi disposti il giorno 27 del mese di competenza ricordatevi come sempre che per accedere quindi beneficiare del beneficio bisogna presentare la domanda adi all'inps poi effettuare l'iscrizione al sistema informativo di inclusione sociale lavorativa quello che per fare prima chiamiamo il sis e sottoscrivere il patto di attivazione digitale quindi alla fine vedete che le date di pagamento sono le stesse identiche del reddito di cittadinanza cioè questione che hanno inventato l'acqua calda l'acqua calda è già stata scoperta come ne hanno scoperto l'americano america scoperta qualcun altro prima di te cioè le date sono sempre quelle il 15 del mese e il 27 del mese 15 del mese il primo pagamento e poi i pagamenti successivi arrivano il 27 del mese di competenza quindi un po alla volta risolviamo i problemi anche di adi le avevamo risolti anni fa con rdc e adesso li stiamo risolvendo con adi poi per prima di concludere diciamo che l'informazione l'informazione di servizio è questa l'informazione di servizio ricordatevi che tutti i giovedì sera alle 21 e 30 sul mio canale di youtube ci sono le dirette live da adesso fino alla prossima estate quindi per tutto il periodo invernale ci vediamo sul mio canale di youtube alle 21 e 30 il giovedì sera è quindi giovedì sera 21 e 30 mio canale di youtube mezz'oretta parliamo di questo parliamo di quell'altro rispondiamo domande ci vediamo faccia a faccia o semplicemente per chi non ha niente da domandare viene lì e stiamo tutti in compagnia ci teniamo compagnia il giovedì sera e poi si parla anche di questo di quell'altro no perché alle volte si parla anche di altre cose parliamo di dei nostri argomenti però le volte parliamo anche di altre questioni quindi vi aspetto il giovedì sera con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao 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 ciao